Ok, grazie, ancora buongiorno. Allora lo studio segue un po' quello che è stato già introdotto da Gina de Barlafante qualche minuto fa ed è uno studio multicentrico sull'efficacia del trattamento osteopatico sui pretermine. È uno studio randomizzato, controllato su tre centri. Dunque, lo studio è stato recentemente, la settimana scorsa è stato pubblicato su Plus One e nasce dalla collaborazione di tre ospedali, cioè l'ospedale di Pescara, di Macerata e di Desio e la collaborazione dell'IOT, scuola di Pescara. Dunque, la introduzione, sapete tutti insomma che dal punto di vista dell'impatto della prematurità, l'organizzazione mondiale della sanità ha un occhio abbastanza favorevole nei confronti dell'osservazione dei fenomeni di prematurità. Tant'è vero che nel 2012 nasce un report chiamato Born Too Soon che mette in mostra come il circa 15 milioni di nascite pretermine all'anno che sono misurate come circa il 10% di tutte le nascite annuali. Quindi diciamo che la percentuale e la quantità di pretermine che nascono quotidianamente durante un anno nel mondo è abbastanza alta. Tenete in considerazione che la maggior parte della prematurità è nelle quelle che vengono chiamate nel low income countries, cioè in quelle nazioni che hanno un basso reddito, per ovvie ragioni. Se andiamo a valutare i costi, i costi annuali per i pretermine all'interno di una singola NICU, espressi in dollari in uno studio del 2007 e quindi condotto da americani, è di circa 6 bilioni di dollari. Quindi diciamo che per tutta la comunità, per tutta la popolazione in questo caso americana è un costo abbastanza alto, che corrisponde circa al 50% di tutti i costi dei bambini nell'ospedalizzazione e al 27% dei costi pediatrici. Quindi prendendo in considerazione questo aspetto più generale e prendendo in considerazione degli studi precedentemente fatti, alcuni già mostrati in precedenza, che mostrano come potenzialmente il trattamento osteopatico si può ritenere efficace nella riduzione della durata di leggenza e nella riduzione dei costi. Quindi abbiamo preso in considerazione la letteratura precedente e abbiamo strutturato un lavoro multicentrico con lo scopo di osservare se i dati precedentemente pubblicati fossero generalizzabili. Quindi abbiamo valutato l'efficacia del trattamento osteopatico nella riduzione della durata di leggenza in una popolazione di pretermine. Studio multicentrico randomizzato su tre centri basato ovviamente nazionale, un centro come vedete a Pescara, Macerata e Desio. Il periodo di reclutamento è stato fra luglio 2012 agosto 2013, tre Nico coinvolte, pretermine tra 29 e 37 settimane che corrispondono ad una classificazione clinica da severi, moderati e tardi prematori. E ovviamente abbiamo avuto approvazione del comitato etico. Ora la popolazione quindi abbiamo già parzialmente descritta. Il trattamento è stato una valutazione osteopatica più il trattamento ovviamente osteopatico è aggiunto insieme al trattamento quotidiano normale che lo staff della Nico normalmente attua. Il controllo invece ha valutato solo i bambini e ovviamente andavano ad un incontro a usual care. L'alcan primario è stata una differenza tra prima e dopo i giorni della loss mentre il secondario è un incremento del medio ponderale quindi del peso giornaliero e i costi. Criteri di esclusione sotto 29 e sotto 37 settimane, trattamento osteopatico effettuato dopo il quattordicesimo giorno, neonati trasferiti sia all'ospedale e sia ovviamente dall'ospedale, neonati con madri sieropositive oppure con insomma che facciamo un abuso di alcol e droghe e poi tutte le caratteristiche dei prematuri intermedi, disordini genetici, congeniti, anomalie cardiache, neurologiche e così via. Quindi abbiamo cercato di tenere la popolazione la più omogenea possibile. Questo è il trattamento osteopatico che abbiamo proposto pubblicato in un articolo precedente. Questa è una fase di valutazione. All'interno dell'incubatrice è possibile effettuare delle valutazioni sia sul cranio, sulla colonna, sul bacino arti, fascia e così via. La frequenza è stata di due volte a settimana con, come abbiamo detto prima, una prima parte di valutazione e una seconda parte invece di trattamento. Trattamento, le tecniche utilizzate sono state scelte come le tecniche indirette. Calcolo della numerosità campionaria. Allora, da precedenti studi abbiamo visto che un fx size di 0,3 moderato ci poteva dare un risultato statisticamente significativo, ottenendo in considerazione un'alpha, quindi un errore di secondo tipo e un errore di primo tipo rispettivamente di 0,05 e di 0,80. Tuttavia per un campione più largo e per generalizzare i dati abbiamo stretto questi parametri. Considerando lo statistical power a 0,90 invece l'alpha level a 0,01. Questo ha prodotto pertanto un campione di 690 bambini, o meglio di 333 prematuri per gruppo, che è stato aumentato di circa 12 unità per evitare quelle che vengono chiamate loss to follow up, quindi le perdite nel caso in cui dovessero essere trasferiti per altri problemi che potenzialmente possono dipendere dal trattamento osteopatico. Quindi alla fine il campione è stato di 690 bambini prestimato e che ci consentiva di ottenere un risultato statisticamente significativo a seconda dei parametri precedentemente settati. Analisi statistica. Abbiamo fatto un'analisi per protocol, quindi tutti i bambini che arrivavano alla fine. media aritmetica, rivelazione standard per vedere insomma le caratteristiche, la distribuzione delle caratteristiche della popolazione alla baseline. Poi abbiamo utilizzato dei generalized linear model, cioè delle analisi multivariate un po' più complesse per valutare l'effetto indipendente del trattamento osteopatico prendendo in considerazione altri parametri. In particolare per gli outcome, quindi per la loss, gli outcome continui che quindi sono la loss e l'incremento di peso giornaliero, invece abbiamo utilizzato l'ordine al least square per l'analisi dei costi, che è una mezza specie di analisi ultimariata però un po' più targettizzata per le analisi di costo-beneficio. Abbiamo considerato l'effect size, il relative risk e il risk difference, poi l'alpha level 0.01, questo è il programma di statistica utilizzato. Ok, allora, popolazione all'ingresso 1.166 bambini di cui 446 sono stati esclusi perché non matchavano i criteri di inclusione, 720 randomizzati, 360 per gruppo, alla fine abbiamo 3.52 in gruppo di studio e 3.43 in gruppo di controllo, con 8 drop out nel gruppo di studio e 17 drop out nel gruppo di controllo. Questa è una tabella direttamente presa dall'articolo che vede le caratteristiche della popolazione alla baseline per gender, quindi per sesso, età, gestational age, peso, complicazioni, DRG e anche gli outcome materni. Come vedete insomma non c'è differenza statisticamente singativa alla baseline e quindi diciamo, possiamo, potremmo affermare che i due gruppi sono comparabili per caratteristiche alla baseline. Andando all'univariata, allora nella prima colonna quella rossa e blu abbiamo la loss nell'asse delle Y e invece due gruppi nell'asse delle X. Come vedete c'è una differenza statisticamente significativa relativa al numero di giorni che i bambini passano in ospedale che conferma i dati precedentemente ipotizzati. così come c'è una riduzione statisticamente significativa dei costi. Tenete presente che i costi sono stati presi in considerazione considerando il rimborso del DRG che è normalmente l'unico dato che il Ministero della Salute ci consente di avere ipotizzando un costo per trattamento del trattamento osteopatico di 20 euro. Noi ovviamente ci andavamo per gratis, quindi i costi che vedete, la riduzione dei costi in questo grafico considera un costo per il trattamento fittizio di 20 euro preso in considerazione da un'assicurazione toscana che è l'unica che rimborsa i trattamenti osteopatici a 20 euro ciascuno. Allora, quindi questa nell'univariata, però se andiamo a considerare le analisi multivariate quindi vediamo la parte indipendente del trattamento osteopatico, cioè quanto è efficace notiamo qui OMT che nel complesso i bambini che sono stati trattati con trattamento osteopatico riducono la durata di emergenza di quasi 4 giorni tenendo in considerazione e quindi pesando per le altre variabili considerate che sono l'età, il peso alla nascita e il sesso. Queste sono, pertanto possiamo affermare, potremmo affermare che il trattamento osteopatico su una larga corte di prematuri tende a ridurre la durata di degenza di quasi 4 giorni con un effect size di 0,31 che è considerato un moderate effect size. Ora, se andiamo a considerare invece i costi la cosa interessante è che per ogni bambino per durata di degenza il sistema sanitario locale ha risparmiato 1.250 euro e ha risparmiato nel senso che questi sono soldi che comunque gli arrivano quindi è una sorta di money box, quindi di salvadanaio che viene reso disponibile per l'unità locale. Se moltiplichiamo questo dato per il numero totale di soggetti arriviamo a quasi un risparmio per il sistema sanitario per tre ospedali, per una corte di circa 700 bambini a mezzo milione di euro. Ora, se facciamo l'analisi a sottogruppo la cosa interessante, questa è sempre la loss outcome primario nell'età gestazionale invece la prendiamo in considerazione come continua e vedete come nella linea rossa è il gruppo di controllo, la linea blu è il trattamento osteopatico come si vede prima vengono trattati i bambini e più efficace il trattamento e lo vedete dalla distanza delle due medie e questa insomma è un'analisi logaritmica quadratica logaritmica che prende in considerazione i due gruppi più è prematuro il bambino più il trattamento diventa efficace fino più o meno alla 36esima giornata dove i due intervalli di confidenza le linee grigie tendono ad incrociarsi. abbiamo misurato gli eventi avversi in particolare quelli respiratori che sembrano avere una diminuzione del rischio di 0,5 relative risk invece l'attribile risk o risk difference anche chiamato del 47% ora discussione e conclusioni quindi che cosa abbiamo trovato che il trattamento osteopatico è efficace nella riduzione della durata di leggenza quindi confermando l'ipotesi che avevamo ipotizzato con un medium effect size e il trattamento osteopatico ha un'efficacia in termini di costo-beneficio che come abbiamo visto fa risparmiare circa mezzo milione di euro e riduce il rischio di complicazioni respiratorie insunto che cosa potremmo dire? che prima vengono trattati i prematuri più diventa efficace il trattamento e più in realtà esiste il risparmio per il sistema sanitario nazionale quindi punti di forza e limiti dello studio i punti di forza sono certamente uno studio molto grosso con una numerosità campionaria ampia e le analisi statistiche certamente uno dei limiti che potenzialmente adesso non può essere superato è quello del blinding e quindi del cieco del trattamento osteopatico che ovviamente il personale quindi gli osteopati che fanno il trattamento ha dei limiti in termini di bias quindi grazie per l'attenzione e a disposizione per voi